Prosegue l'estate vichese, si comincia sabato a San Menaio con un libro sulla storia di Gianni Versace. Il prossimo 3 agosto l'anfiteatro comunale di Vico del Gargano, struttura interamente al coperto, in via Mauro Rostagno invece, è pronto ad accogliere lo show di un altro grande attore comico italiano, Nino Frassica. Lo showman siciliano sarà accompagnato da Los Plagers per uno spettacolo che unisce ironia, musiche e risate. L'evento è organizzato dal comune di Vico del Gargano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Musica, libri, poesia insomma. L'estate vichese è anche quella di oggi, con un doppio appuntamento tra musica e poesia in Largo Castello e Piazza del Conte. Oggi infatti proseguirà con un doppio appuntamento a partire dalle 21.30 in scena la settima edizione di Dialetto che poesia, tra versi poetici e musica. Stesso orario d'inizio in Piazza del Conte per la presentazione di Paglia di Grano, un volume di poesie di Alfonso Graziano. Il 23 luglio domani si terrà il quinto appuntamento con la rassegna di incontri di un libro per amico. In Piazzetta del Conte, questa volta, sarà Rosa Porcu a intervistare Laura Marchetti. Un neologismo per dare forza alle ragioni e alla necessità di andare oltre un'Italia patriarcale che ancora nega meriti, parità e voce alle donne. Gianni Versace, Il Giovane Favoloso. A Semmenaio, nel piazzale della stazione, dalle 21.30, sempre domani, si terrà la presentazione del libro, Il Giovane Favoloso. Con l'autore Tony di Corcia, il libro racconta le origini di un talento eccezionale capace di rivoluzionare le regole della moda in tutto il mondo. E poi il concerto di Renga, piazza Monte Tabor a Vico del Gargano, è pronta ad accogliere uno degli eventi estivi e musicali dell'anno in Capitanata. Domenica 24 luglio, nel Paese dell'Amore, sarà di scena il concerto di Francesco Renga, uno dei grandi interpreti e cantautori italiani.